Ciao a tutti, oggi desidero condividere con voi un brano del mio libro Alchimia delle parole. È da tanto che non lo faccio, ma oggi sento questa spinta interiore a farlo. Quindi chiederò alle parole di questo libro di esprimersi per me e per chi risuona con esse. Scrivere a me da io Sento letteralmente una parte di me sgretolarsi e scomparire. È quella che ha creduto di non valere abbastanza, di non meritare abbastanza, di non poter chiedere abbastanza. E sento nascere una nuova creatura da queste ceneri, quella che ha imparato a dire di no, quella che vede orizzonti a 360 gradi, quella che sa riconoscersi e continuare a camminare anche calpestando gli ostacoli, quella che non ha bisogno di sussurrare una richiesta, quella che può finalmente permettersi il lusso di lasciare andare ciò che è secco e vecchio e che in un movimento di accoglienza fa sorgere la vita a cui aspira. Quella che può richiamare guarigione e perdersi nel proprio sguardo d'amore. Ciao a tutti Che queste parole vi accompagnino Grazie a tutti